A tutti voi buonasera dal Tg Max, in apertura c'è la cronaca. Rilasciavano false autorizzazioni per noleggio con conducente. La stradale di Pescara ha arrestato 14 persone, tra le quali il sindaco di Turri Valignani. Le accuse per tutti sono di corruzione in concorso e associazione per delinquere. False autorizzazioni per noleggio con conducente. Con le accuse di corruzione in concorso e di associazione per delinquere, la polizia stradale di Pescara ha arrestato 14 persone, 6 sono ai domiciliari, 8 con l'obbligo di dimora. Figura di spicco il sindaco di Turri Valignani, Roberto Di Cecco, 55 anni, accusato di aver rilasciato un numero ingente di autorizzazioni, oltre 80, a favore di soggetti che in realtà non hanno mai svolto il servizio di trasporto, secondo quanto previsto dalle normative. In totale in Abruzzo risultano indagate 295 persone, delle quali 31 amministratori comunali, tra sindaci e assessori e comandanti dei vigili. 211 comuni controllati su 305 dal compartimento Polizia Stradale per l'Abruzzo, in 65 sono emerse gravi irregolarità di carattere penale a carico di privati. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza che richiede il trasporto a tempo a viaggio, senza limite territoriale. L'inizio e la fine del servizio deve avvenire all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e lo stazionamento dei mezzi deve essere realizzato in una rimessa ubicata nel territorio dello stesso comune. Silvia Conti, commissario postrada di Pescara, ci racconta il modus operandi. Il modus operandi era quello di aggirare tutta la normativa prevista per il rilascio di licenze con noleggio con conducente, che sono cosa diversa dalla licenza per taxi, aggirando sia la delibera regionale, rilasciando il numero superiore a quelle previste e in diversi casi, ipotesi che noi abbiamo ben inquadrato, c'è stata una dazione di denaro che variava dai 2.000 ai 10.000 euro. Le autorizzazioni consentivano di svolgere l'attività anche a Roma, creando quindi una concorrenza sleale nei confronti di chi ha superato il bando pubblicato nella capitale. L'attività investigativa ha preso il via proprio in seguito ad un imponente sequestro di autorizzazioni da parte della Polizia Municipale Capitolina. A lato del rilascio dei titoli, il sindaco ometteva qualsiasi forma di controllo sul possesso dei requisiti da parte dei richiedenti. Oltre al sindaco di Cecco sono ai domiciliari Sebastiano Di Maria, residente a Serra Monacesca, Fabio Falasca, Agostino Forte, Marco Lulli e Giancarlo Di Girolamo, tutti residenti a Roma. Delle 8 persone sottoposte all'obbligo di rimora, solo una e Pescarese, le altre della capitale. Vendevano tabacco online bypassando i monopoli di Stato e quindi evadendo le imposte. La Guardia di Finanza di Avezzano ha sequestrato 400 tonnellate di tabacco e arrestato due persone ai domiciliari. Antonio Palma, 60 anni di Avezzano, titolare del sito web attraverso il quale commercializzava i prodotti e il suo fornitore Antonio D'Angelo, 63 anni, domiciliato a San Giustino, provincia di Perugia. I finanzieri hanno stimato che negli ultimi mesi Palma ha commercializzato almeno una tonnellata e mezza di tabacco praticando prezzi più bassi nell'ordine del 65%. Agli altri 5 componenti dell'Associazione per delinquere, che si occupavano di procacciare i clienti per Palma, trasportare e immagazzinare il prodotto, il GIP ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Dopo la visita della Commissione del Senato sul Servizio Sanitario Nazionale, i familiari del centro di urno psichiatrico di L'Aquila hanno chiesto un incontro con la Direzione Generale dell'Asl. L'obiettivo è trovare una soluzione logistica alternativa ai container. Un incontro con la Direzione Generale dell'Asl 1 per trovare una soluzione logistica alternativa ai container. La richiesta avanzata dai familiari dei pazienti del centro di urno psichiatrico di L'Aquila dopo la visita del 10 dicembre scorso della Commissione del Senato sul Servizio Sanitario Nazionale, la seconda effettuata nel 2012. Ad oltre tre anni e otto mesi dal sisma, aveva dichiarato il Vicepresidente della Commissione, Alfonso Mascitelli, è inaccettabile che la situazione sia rimasta invariata. La situazione igienico-sanitaria nei container è insostenibile a norma di legge e di civiltà. Alla denuncia della Commissione, del Senato e dei NAS di Pescara, fa seguito la sollecitazione da parte dei familiari dei pazienti che confidano nella capacità del manager dell'Asl, Silveri, di comprendere la situazione emotiva che stanno vivendo e vivono costantemente nell'occuparsi dei loro cari. La richiesta dell'incontro con la Direzione Generale è nell'ottica di trovare una sistemazione logistica alternativa immediata, adeguata e inserita in contesti di vita che possano favorire processi di inclusione sociale tanto importanti per il recupero delle abilità assopite dal disagio psichico. Per avere una visione complessiva della situazione e adottare gli eventuali provvedimenti, bisognerà studiare la documentazione relativa alle strutture e aspettare il verbale relativo all'esito dell'ispezione. Se dovesse emergere la mancanza delle necessarie autorizzazioni di tipo logistico e sanitario, il centro potrebbe essere chiuso. Ma il servizio di assistenza ai pazienti non può essere interrotto per legge. Ora la palla passa necessariamente alla Asla Aquilana. Giudizio immediato e la richiesta avanzata dal sostituto procuratore d'Agostino per Angelo Ciarelli, 39 anni, il Rom arrestato lo scorso 2 luglio per l'omicidio di Tommaso Cagnetta, il pregiudicato 42 anni ucciso nel corso di una sparatoria nel cortile del cosiddetto ferro di cavallo a Pescara per questioni di droga. La decisione del GIP è attesa a giorni ad incastrare Ciarelli non solo le testimonianze ma anche prove scientifiche deve rispondere di omicidio volontario e porto abusivo di arma. Il Consiglio Comunale di Lanciano si riunisce domani in seduta straordinaria per approvare il SEAP, Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, che mira a ridurre l'emissione di CO2 in città. A proderà domani in Consiglio Comunale come unico punto all'ordine del giorno il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, SEAP, del Comune di Lanciano, così come previsto dalle linee guida definite dalla Commissione Europea. Il piano è stato illustrato nei giorni scorsi nella sala consigliare dal Sindaco Mario Pupillo, dalla dirigente del settore ambiente del Comune Antonio Ghezzi e da Emanuele Pasquini, rappresentante della LESA, l'Agenzia Locale per l'Energia e lo Sviluppo Ambientale della provincia di Chieti, che ha realizzato i SEAP. Il piano, la cui adozione rientra tra gli obblighi che il Comune ha assunto aderendo all'iniziativa europea Covenant of Mayors, costituisce uno strumento importante per la pianificazione energetica sostenibile, individuando una serie di azioni che consentiranno, entro il 2020, di decrementare le emissioni di CO2 del 20%, secondo quanto stabilito dalla strategia del pacchetto Clima ed Energia 2020-20. Lanciano, dice il Sindaco Pupillo, vuole realizzare un nuovo percorso per l'ambiente e lo farà partendo dall'efficientamento energetico nelle scuole per costruire poi una nuova cultura nel cittadino. Il SEAP della provincia di Chieti parte dal rilevamento delle emissioni di CO2 al 2005 per poi mettere in campo azioni volte alla riduzione. Tra queste, ha spiegato Pasquini, rientrano sicuramente la riqualificazione energetica degli edifici comunali e quella legata alla pubblica illuminazione, che ad oggi è causa di enormi sprechi per le reti vecchie obsolete. Nelle SEAP rientrano anche la raccolta differenziata porta a porta e gli strumenti alternativi nella mobilità urbana, quali ad esempio il bike sharing. Oltre all'aspetto meramente tecnico, il piano attribuisce rilevanza formale ai risultati della partecipazione attraverso l'introduzione di un documento della partecipazione che raccoglie tutti gli atti relativi alle proposte e alle attività di pianificazione partecipata. Nell'ottica dello sviluppo sostenibile della città di Lanciano, il SEAP costituisce un importante strumento di pianificazione di cui bisognerà tener conto per lo sviluppo di azioni che mirano da un lato a migliorare l'efficienza energetica generale del sistema comunale e dall'altro a creare e incentivare lo sviluppo di una coscienza energetico-ambientale tra i cittadini. Fa scorta di regali natalizi da un'azienda agricola di Sant'Egidio La Vibrata e paga con assegni scoperti. Manette un 28enne di Pineto, Daniele Prosperi con precedenti penali. L'uomo che aveva scontato gli arresti domiciliari per rapina impropria commessa a pescare accusato di truffa aggravata continuata. Nel suo furgoncino i carabinieri hanno scoperto documenti che attestavano precedenti acquisti fatti con lo stesso raggiro in frantoi di Morrodoro, Roseto e Bellante. Il valore della merce trafugata e rinvenuta si aggira sui 10.000 euro. Un gioielliere di 50 anni è stato accoltellato in maniera non grave nel corso di una rapina messa a segno a Chietiscalo ad aggredire il commerciante e due malviventi con il volto coperto da sciarpa e berretto, uno dei quali è armato di coltello per cause al vaglio dei carabinieri. All'interno del negozio è scoppiata una violenta colluttazione nel corso della quale il gioielliere è stato raggiunto da due fendenti, uno al fianco destro e uno alla coscia. I due malviventi si sono quindi allontanati portando via un borsello contenente oggetti d'oro e denaro contante per un valore che non è stato ancora quantificato. L'uomo è stato soccorso e portato al policlinico di Chieti dove è ricoverato e le sue condizioni non risultano gravi. Si chiama Io Comprovero il progetto del Comune di Chieti contro la contraffazione dei marchi. Senza contraffazione in Italia ci sarebbero 110 mila posti di lavoro in più e un miliardo e 700 mila euro di entrate per il fisco. Per combattere il fenomeno il Ministero dello Sviluppo Economico ha promosso un bando cui ha partecipato anche il Comune di Chieti con il progetto Io Comprovero, progetto che il Ministero ha finanziato con 33 mila euro. Tre gli obiettivi che il progetto persegue, come spiega l'assessore alle attività produttive Antonio Viola. Purtroppo questo è un fenomeno molto diffuso nei mercati cittadini, ma in tutto il paese e anche alcune volte abbiamo registrato che è un fenomeno diffuso anche nei negozi. Quindi noi vogliamo fare un'attività di educazione, un'attività di contrasto e un'attività di repressione di questi fenomeni. Una rapina è stata compiuta poco prima delle 13 alla filiale della banca Tercas di Nereto. Due malviventi con il volto parzialmente coperto da parrucchi e occhiali sono entrati nei locali delle casse minacciando i dipendenti con un taglierino si sono fatti consegnare 20 mila euro, poi sono fuggiti a bordo di una macchina sulla quale c'era un terzo complice ad attenderli. All'uscita della banca è esplosa una mazzetta civetta gettata a terra, indagano i carabinieri. Due uomini con il volto coperto e guanti armati di una tavoletta di legno hanno invece messo a segno questa mattina una rapina ai danni dell'ufficio postale di Via Carducci a Pescara. Dopo essere entrati hanno scavalcato i banconi e preso una somma che uscilla tra i 1000 e i 2000 euro. I due fuggiti a piedi sarebbero italiani sul caso indaga la squadra mobile. Voltiamo pagina, tappa abruzzese per Girolio, la manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio che coinvolge 18 regioni italiane. Secondo gli esperti l'Abruzzo è quinta in Italia come produzione e seconda come qualità. Anche in questa edizione si svolgerà a Pescara la tappa abruzzese di Girolio 2012, la manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio che coinvolge 18 regioni italiane. Sabato 15 e domenica 16 Piazza della Rinascita, ovvero Piazza Salotto, dalle 10 alle 20, ospiterà l'evento presentato dall'assessore alle politiche agricole Mauro Febbo. Un'occasione importante, ha commentato l'assessore, per sensibilizzare ulteriormente i consumatori abruzzesi e non solo al consumo del nostro eccellente olio extravergine d'oliva, che non a caso viene considerato dagli esperti il secondo in Italia in termini di qualità. Dopo la bellissima esperienza lo scorso anno, credo che era giusto e doveroso ripuntare su una manifestazione che ha avuto un grossissimo successo, sia per la scelta della location pescara che indubbiamente ha un momento di coinvolgimento e soprattutto non è inserita nel sistema rurale per cui si rivolge a consumatori attenti, sia soprattutto perché oramai le città dell'olio stanno continuando su questa manifestazione che sta riscuotendo sempre il più successo. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la regione Abruzzo, noi puntiamo molto sull'olio extravergine d'oliva perché è il prodotto tipico della nostra agricoltura, il prodotto tipico della nostra cucina è il prodotto della dieta mediterranea. Su questo si andano scommettendo, manifestazioni come Giroglio sicuramente portano risultati, visto che cresce il nostro autoconsumo interno come regione Abruzzo. Promosso dalla provincia di Chieti in qualità di ente e coordinatori a livello regionale, in collaborazione con l'assessorato regionale all'agricoltura, Giroglio 2012 vede il coinvolgimento di 16 comuni abruzzesi, Casoli, Città Sant'Angelo, Fossacesia, Lanciano, Palombaro, Pianella, Rapino, Santomero, Montefino, Archi, Tocco da Casauria, Bomba e Prezza. Testimonial della tappa abruzzese sarà lo scrittore e regista Federico Moccia, neosindaco del comune di Rosello. Quest'anno i temi cardine saranno il paesaggio olivicolo e la proposta di candidatura Patrimonio Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO, promossa da Recomed, la rete delle città dell'olio del Mediterraneo. Ed ora la pagina sportiva. Dopo il successo contro il Genoa, il Pescara si prepara, anzi prepara la trasferta contro il Milan. La squadra ha ritrovato compattezza, la difesa a quattro e Biarsson e Vukusic in grande spolvero. Sì, sì, il calendario, proprio perché il calendario è difficile, tanti punti, non so quanti ne potremo fare in queste prossime gare, perché ovviamente sono partite proibitive, però io dico che comunque noi come mentalità ce la dobbiamo sempre giocare. Poi per carità capisco i cinque gol Napoli, però insomma domenica andiamo a Milano, è una partita difficilissima, però voglio dare una mentalità a una squadra che deve cercare il più possibile di giocare per vincere, giocare bene, insomma, quindi una mentalità propositiva, positiva nel gioco. È tutto, vi ricordo che i servizi approfondimenti sono disponibili sul sito tgmax.it, che ci trovate sul digitale terrestre, canale 12. Grazie dell'attenzione, arrivederci a domani. Grazie a tutti.